Alleviare la tosse grassa con 5 piante medicinali. La tosse grassa è uno dei sintomi che si presentano quando contraiamo infezioni batteriche e virali che compromettono la salute respiratoria. Si tratta di un meccanismo di difesa attivato dal nostro sistema immunitario al fine di aiutarci a liberare i condotti respiratori per accelerare il processo di guarigione. Sebbene sia normale soffrirne di tanto in tanto, a volte si produce in forma cronica, causando malesseri e complicazioni per molto tempo. Come alleviare la tosse grassa? Per fortuna, oltre agli sciroppi e ai rimedi convenzionali, esistono soluzioni di origine naturale che, grazie alle loro proprietà, ci aiutano ad alleviarla velocemente. Oggi vogliamo condividere 5 piante medicinali la cui azione espettorante ci permette di mantenere sotto controllo la congestione, il mal di gola e altri fastidi che di solito accompagnano la tosse grassa. Piante medicinali per alleviare la tosse grassa 1. Liquirizia popolare nella medicina naturale grazie alle sue proprietà antinfiammatorie ed espettoranti. La radice di liquirizia è uno dei rimedi naturali che possiamo impiegare per alleviare la tosse grassa. Il consumo del suo infuso combatte le infezioni respiratorie e riduce l'irritazione e la congestione dei bronchi. Ingredienti 1 cucchiaino di radice di liquirizia 5 g 1 tazza d'acqua 250 ml Preparazione Versate 1 tazza di acqua in una pentola e portatela a ebollizione. Successivamente, aggiungete la radice di liquirizia e lasciatela cuocere per qualche minuto a fuoco basso. Ritirate la bevanda dal fuoco e lasciatela riposare per 10 o 15 minuti. Trascorso questo tempo, filtrate e servite. Modalità di consumo Bevete 2 o 3 tazze di infuso di liquirizia al giorno. 2 Timo Il timo possiede proprietà antisettiche ed espettoranti che ci aiutano a liberare le vie respiratorie in caso di tosse grassa e infezioni virale. I suoi composti attivi riducono l'irritazione dei bronchi e facilitano la respirazione in caso di congestione, asma o bronchite. Ingredienti Preparate un cucchiaino di timo, 5 g, una tazza d'acqua, 250 ml, un cucchiaio di miele, 25 g. Preparazione Aggiungete il timo a una tazza d'acqua bollente e lasciate riposare l'infuso per 10 minuti. Successivamente filtrate la bevanda e addolcite con un cucchiaino di miele. Modalità di consumo Bevete una tazza d'infuso a metà mattina e, se necessario, ripetete il consumo prima di andare a dormire. 3 Origano L'infuso di origano con miele è uno dei rimedi tradizionali per alleviare la tosse grassa, il raffreddore, e altri disturbi che possono compromettere la salute polmonare e respiratoria. Questa pianta medicinale si distingue per la sua alta concentrazione di composti antibiotici, analgesici e antinfiammatori che aiutano a combattere i microorganismi che provocano infezioni nell'apparato respiratorio. Ingredienti 1 cucchiaino di origano, 5 g, una tazza d'acqua, 250 ml, un cucchiaino di miele, 25 g. Preparazione Fate bollire una tazza d'acqua e, una volta giunta a ebollizione, aggiungete l'origano. Coprite la bevanda e lasciatela riposare a temperatura ambiente per circa 10 minuti. Filtrate e addolcite con un cucchiaino di miele. Modalità di consumo Assumete l'infuso di mattina e bevetelo nuovamente prima di andare a dormire. 4 Anice L'anice contiene oli essenziali con proprietà e spettoranti che ci aiutano a eliminare il muco, a liberare le vie respiratorie e a calmare la tosse. Grazie ai suoi composti antinfiammatori e antibatterici, per anni è stato impiegato come rimedio per ridurre l'asma e altri disturbi che ostacolano la respirazione. Ingredienti 1 cucchiaino di anice, 5 g, una tazza d'acqua, 250 ml, preparazione Aggiungete l'anice in una tazza di acqua bollente e coprite la bevanda. Trascorsi 10 minuti, filtratela e bevetela. Modalità di consumo In caso di tosse, bevete l'infuso a metà mattina e prima di andare a letto. 5 Fiori di sambuco Il tè preparato con fiori di sambuco è un antico rimedio e spettorante che accelera la guarigione da tosse, raffreddore e gola infiammata. I suoi composti antivirali e antinfiammatori costituiscono un buon integratore per rafforzare le difese, facendo aumentare la risposta in caso di attacchi virali e batterici. Ingredienti 1 cucchiaio di fiori di sambuco, 10 g, una tazza d'acqua, 250 ml, preparazione Mettete il fiore di sambuco in una pentola e fatelo bollire a fuoco lento per circa 10 minuti. Una volta pronta, coprite la bevanda e fatela riposare a temperatura ambiente. Filtratela e servitela calda. Modalità di consumo Bevete una tazza di bevanda di fiori di sambuco quando si presenta un attacco di tosse. Assumetene fino a due tazze al giorno. Come abbiamo appena detto, sono varie le piante medicinali che possono esserci utili alleate per alleviare la tosse grassa e altri sintomi delle infezioni respiratorie. Scegliete quella che vi attira di più e usatela come rimedio fino a completa guarigione.